Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 È stata inaugurata ieri pomeriggio in via Felice Cavallotti l'associazione Voghera è caratterizzata dalla presenza della lista civica Ghezzi Sindaco Presenti tra gli altri la presidente Patrizia Longo il vicepresidente Pierezio Ghezzi ed il consigliere capogruppo della lista civica Edoardo Alfassio Grimaldi Ad agli etari presenti l'esibizione del corpo musicale Città di Voghera Il principale obiettivo è quello di coinvolgere il cittadino alla vita politica alla vita della città e per far questo il cittadino per poter parlare deve poter avere un centro di ascolto e noi ci mettiamo a disposizione per ascoltare e quindi per poter fare nostri anche delle idee della gente per portare avanti dei progetti, per portare avanti dei discorsi Un gruppo di persone che arriva dalla lista civica che sostiene Ghezzi alle ultime amministrative, è corretto? È corretto La maggior parte di noi eravamo iscritti come candidati alla lista civica alla candidatura di Pierezio Ghezzi Altre persone però che sono diventati soci fondatori hanno approvato il nostro statuto e hanno collaborato con noi e si sono iscritti a questa proprio come soci fondatori a Voghera è Ecco qualcuno ha storto il naso, un'associazione a partitica come lei l'ha definita con Pierezio Ghezzi vicepresidente Cosa risponde? Che questa associazione è assolutamente a partitica poi ognuno di noi è un cittadino quindi ha il dovere di far parte della politica quindi appunto polis città e questo è fondamentale quindi intervenire attivamente nella politica non significa essere dei partiti a far parte di un partito poi chiaramente se qualcuno ha delle ideologie politiche ed è iscritto ad un partito vabbè ma questa non è la sede È un anno che stiamo lavorando insieme oggi diciamo è l'inaugurazione di questa associazione però il gruppo era già costituito Un cittadino passa qua davanti vede l'associazione, apre la porta, entra e cosa può fare? Allora tante cose si possono fare le ambizioni sono elevate sicuramente visto che un cittadino può passare di qui la prima cosa che secondo noi insomma deve avere deve incontrare è uno sportello di ascolto quindi l'associazione si pone anche con l'obiettivo in pratica di riuscire a far proprie le problematiche dei cittadini e portarle avanti per poter trovare delle soluzioni in particolare come noi ci stiamo attrezzando per fare raccolte firme in particolare su varie problematiche vogherese per farci ascoltare si può poi fare interpellanze interrogazioni in consiglio comunale e io sono rappresentante della lista civica che era partita un anno fa e poi ci sono comunque anche altri aspetti dove visto che siamo in tanti il gruppo è folto se il cittadino viene a portare una problematica comunque molte persone possono anche dire la propria e quindi trovare davvero delle soluzioni condivise per dare una risposta concreta al cittadino che è venuto a bussare un'occasione che tra l'altro potrebbe trasformarsi anche in un nuovo solotto culturale accessibile a tutti i cittadini perlomeno questo è l'obiettivo oppure no? ma allora l'intenzione è anche quella nel senso che noi ci siamo da subito divisi in gruppi tematici e stiamo lavorando su vari fronti in particolare abbiamo una responsabile per la cultura visto che la domanda è pertinente in questo senso che è la Tiglia Vicini e lei ad esempio ha già insieme a Pierezzo Ghezzi e ad altre persone posto all'assessore un documento sulla scuola e l'assessore lo sta valutando l'assessore è competente e inoltre ci sono una serie di iniziative che faremo nei prossimi mesi cercheremo di porre in atto in particolare far emergere i talenti locali che magari sono meno conosciuti ma ci sono anche altre cose il tipo si vuole tenere aperta la biblioteca instaurando un gruppo serale di lettura e un'altra cosa è il gruppo per la scala quindi incentivare anche la partecipazione alla scala di Milano per varie manifestazioni quindi le idee sono tante insomma nei prossimi mesi credo che ci sia sicuramente un programma che può essere condiviso con la cittadinanza a cui tutti potranno partecipare Essendo lei uno dei consiglieri più giovani sente un po' il peso della responsabilità? Beh allora sicuramente sì io non pensavo di essere eletto in realtà poi è andato tutto per il meglio sono in minoranza quindi non abbiamo tanta voce in capitolo ma sicuramente tanta energia e voglia di farci sentire e in particolare infatti con questa occasione ringrazio tutte le persone che diciamo forse anche un po' più nascoste stanno dando manforte a questo lavoro perché l'esperienza deve essere fatta giorno per giorno e grazie a loro davvero ho un folto gruppo di persone che vogliono dire la loro in consiglio comunale attraverso me che sono rappresentante e sono Grazie a tutti.